Daniele, pensi che ci sarà una nuova guerra mondiale? Non lo escludo, ricordatevi che noi siamo la prima generazione che non ha vissuto una guerra, la prima, quindi per adesso. Ricordatevi anche che uno degli obiettivi dei potenti è quello di arrivare, di diminuire la popolazione, si dice tra i 500 milioni e un miliardo di persone, anche perché un miliardo di persone, o 500 milioni ancora meglio, sono molto più controllabili, 7 miliardi sono tanti, sono un sacco di rotture di scatole, capisco che i 7 miliardi sono utili perché in India proviamo i vaccini, in Africa proviamo i virus, quindi insomma, dove vai vai, lì proviamo sta cosa, lì troviamo un'altra, però poi li dimezziamo, in realtà un'estinzione di massa è già iniziata, iniziata, cioè tutto il sistema si sta muovendo per diminuire mostruosamente la natalità e per aumentare in qualche modo i morti, io non so, quest'anno devo trovarle ancora, l'anno scorso c'è stato ad esempio in Italia il maggior numero di morti dal primo dopoguerra, cioè c'è stata una strage, non si capisce perché, ovviamente hanno subito detto è stata colpa dei vaccini, perché i vaccini non li fate più i vaccini, quindi va malato e morite, ragazzo, vabbè.